buongiorno a tutti buongiorno buonasera fortunatamente è uscito il sole qui a parigi fa freschetto vedete 14 luglio andiamo a vedere festeggiamenti andremo come di abitudine prima le giostrine che si trovano a tuileries e dopodiché a piedi quest'anno a piedi ci sposteremo per trovare la il posto migliore che impossibile a più tardi ragazzi si sente sempre questo odore che adoro mi siamo arrivati alla e si sente sempre questo odore della fine del mondo delle crepe tutto zuccherato questa giostrina qua è una figata pazzesca poi ci sono tante altre e andiamo a vedere voilà ma non c'è vince 10 euro 10 euro sono pure cinese ah che si fosse come un panno perché sono proprio buono allora dopo praticamente ce ne andiamo per là questo è il giardino del museo di Louvre voilà di dopo se ne usciamo dall'altro lato quello là che vedete è il museo d'Orsay e andiamo quindi ah è uscito proprio il sole intanto stamattina che sta piovendo allora ora facciamoci qualche gesto mmm mmm un po' bello bello ah adesso stanno bella questo è questo è questo è che è il mondo è questo è questo è che è bello bello è molto bello è molto bello ah questo è proprio un bleffero 5 euro 3 partite 10 euro vengono beh ragazzi non ho vinto ho messo 15 euro i primi 5 euro sono stati per capire come funzionava il gioco i secondi 10 euro sono stati praticamente la mia fase depressiva totale e poi ho detto ma vaffanculo però una vicino ha preso l'iphone 6 però la per tentare non devi mettere di patate barbe al papà , come si qui è qui al bordo al bordo il mondo è inattito che c'è l'argo io ci faccio Non mi sa che quello che sta facendo è tagliato forte, perché è difficile. Mi manca un po' Non riesco a pagare un po' 6 euro per la partita o 2 per 1? E' un po' 5 euro per la partita o 2 per 1. Ah! Voilà! E' un po' E' un po' E' un po' E' un po' Questa è un po' bello. Allora, questo qua era... Ah, questo pure è bello. Pure è bittissimo. Questa è la casa degli specchi. Alcela, questa è la casa degli sposi del lui. Tutti in questo caso, tutti i soldi, Che cosa è bello? Ma forse? Questo è un po' di rosa, questo è un po' di magico e di sabbia. Ah! Ah, non, non, non. 2 euro e 5 partizze. Vabbè, allora. Sì. Ora ci sono qualche cosa che facciamo qui. Ah, in macchina tutti e tutti. Questo pure carino. Allora, il succo è già tenuto video. Però l'ultima volta che c'è... Guardate che nei vetri, no? Dove sta la testa. L'ultima volta che c'è... Poi c'è proprio la mucata di coccoro. Quindi non era... Non è stato abbastanza credibile. Infatti che è bello, è bello però. Però un po' è stato appanato con una mucata di coccoro. E poi... Comunque non ve lo posso registrare. Ora la faccio, sta spugato l'ho con coccoro. Eh, ragazzi... A presto. Faccio sapere. Se continuo la registrazione significa che sono vivo ancora. A presto. A presto. A presto. Madonna mia ragazzi, proprio a vertical limit. Sei proprio che... Praticamente se tu hai mangiato... Stai... E un mucato. Bellissimo. Ah, mi sono fatto questo sfogadino là sopra. È consigliato a chi ama... A chi ama il brivido. 10 euro, se penso. E... Però un'altra cosa che vi volevo dire... È che quando scendete da là sopra... Perché la pressione è veramente molto forte. Quindi quando scendete da là sopra... Vi sentite per qualche secondo un po' spaisante. È veramente una fortissima pressione. Allora... Volevo farmi qualcosa di nuovo. Vediamo un po' dove si sta. Farò più a me mangiare. Ah, questo qua pure... È carino. Ah, ma non è un grande... È un plastico tronco. Ma come faccio il tronco? La... La... È un po' già viva. Che si chiama... Non me lo voglio fare. Che vedi 25 euro devo fare. Non mi fa. Unavrempata di caccia in questa solda. Non ha un parchetino come questo. Ah, scende i credit cards. Ah, cosa fa il biglietto? Fra... ora lo faccio pure in un gilindotrono lo filmo tutto in diretta poi la roba è a mangiare voilà e quindi vi sto facendo vivere questi momenti straordinari dove potete ammirare ma il mercato fa proprio un bagno qua cacuccio proprio di acqua bella questa cosa allora ragazzi la discesa qua mi sembra bella tosta madonna mia è qua la discesa però mi pareva bella tosta oh merda ragazzi la discesa che la lama pare veramente troppo tosta quindi lasciamo perdere va registriamo con manteniamoci con due mani quindi non vi lascio la tentazione del brivido ahahahahah oh ma è pesante questa cosa a più tardi beh evitatela di fare perchè qua fa proprio più forse che facesse cavare no 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 bravo lo capisco facesse cavare allora ok ma guardate qua ma proprio un buco e che te succede allora adesso andiamo a tentare qualche altro gruppo di fortuna questi giochini qui e poi andiamo a mangiare la salsiccia a più tardi wow mamma no vediamo ancora tutto questo bordallo ah allora ragazzi ho pesato altri 30 euro allora 30 euro e e 40 euro di giostrine sono 70 euro questo pure mi piace secondo e quindi 40 euro di 70 euro per il momento ma ci mangiamo qualcosa buttate qua voilà allora ragazzi noi ci schiattiamo la salsiccia e le patatine fritte hamburger i grecchi il kebab voilà un brocchetto fritto buono è più tardi è più tardi ma guardate qui allora ragazzi ci schiattiamo questo panino mettiamo tutto qua dentro e chi si è visto se è è più tardi è più tardi allora ragazzi ci schiattiamo questo piccolo panino per che siamo a 10 quindi andiamo a venire quindi metto il brusco come lo mangio ah 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 è più tardi guardate qua quando i ferri mi fumano in tutto il braccio è più tardi è più tardi è più tardi